L'ente comunale di Agropoli sborserà 120.000 euro per l'azienda speciale consortile Agropoli Cilento Servizi. Si tratta dell'accordo raggiunto tra l'ente comunale e l'azienda per lo svolgimento di servizi aggiuntivi inerenti alla gestione della sosta urbana a pagamento rispetto a quelli ordinari. Inizialmente l'Agropoli Cilento Servizi aveva richiesto il pagamento di 169.000 euro per una serie di servizi straordinari che andavano quindi al di fuori del contratto già stipulato. A sostegno della richiesta sono state accolte le note dei responsabili dei servizi demografici, dei servizi cimiteriali, dei responsabili area affari generale e dell'area vigilanza che hanno attestato l'effettivo svolgimento del servizio da parte dell'azienda, anche se non sono stati in grado di valutarne la totale congruità delle spese sostenute. A ragione di ciò i due enti hanno pattuito la somma di 120.000 euro, suddivisa in tre rate. La prima, di 5.000 euro, dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2018. La seconda, del valore di 55.000 euro, sarà incassata dalla società entro il 31 dicembre 2019. L'ultima, che ammonterà 60.000 euro, avrà invece come scadenza il 31 dicembre 2020.